Ciao a tutti ragazzi e ragazze, lei è Laura e lei è Giulia. Oggi facciamo una challenge che io devo toccare a lei e lei a me. Cioè si chiama la Stuc Challenge. Allora mettete un like, iscrivetevi al canale e mettete il 5 mi piace. Ok, sì, mi piace. E mettete pure 10 like. Ecco, ok, iniziamo. Allora, ma almeno a 10 ci dobbiamo arrivare. Allora, noi abbiamo preparato questo rossetto, è il del launo, è il mio launo. Bellissimo. È il nostro, non è il suo. È il nostro. Che noi siamo sorelle. E ho preparato pure questo che è il nostro. Che ora vedete che apro, aspetta. È bellissimo. Aspettate. Cioè noi abbiamo preso questo come gioco, però ne abbiamo in quantità. Allora, ecco un pennello. Io lo so. Allora, questo, guardate. Qua. Allora, dammi questo pennello. E lei li comanda, lei perché è lì. La più piccola è doveva comandare senza lei. Ecco. Penso. E qua c'è la cosa. Non la vedete? Aspetta che ve la faccio vedere. Vedi, ha uno, due, tre, quattro. E ha i pennelli. Cioè ci sono due, due parti per le, per le, per gli occhi. E due parti per le luci da labbra. Ok. Vogliamo iniziare? No, io li decido come andiamo. Allora. Iniziamo, però ti devi avvicinare perché. Iniziamo. Tutte ragazze, ragazzi. Anzi, mi chiamiamo topine. Ciao a tutti i topini e topine. Allora, iniziamo. Con le unghie. No, con le unghie no. Allora si chiama le unghie. Con le unghie no. Vabbè, non li facciamo. Certo. Allora, iniziamo. Questo pennello è fantastico, fantastico. Proprio è bellissimo. Scusate se quando ci spostiamo c'è poca luce perché c'è, 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 c'è due luci e tutte le altre spente perché, sinceramente, sono rotta. Allora, iniziamo. Iniziamo. Vinola, che ti fai? Allora, iniziamo. A lei io ce li dovevo decidere. Ci sono dei colori. Allora, iniziamo da qua. Prima di tutto qua dobbiamo mettere il bianco. Vedi, decide di cosa è lei. Se arriviamo a 10 mi piace, io truccherò a lei. Bruttissima. Che scherzano. Prima di tutto qua dobbiamo mettere il bianco. Ok, iniziamo. Non si vede tanto il bianco perché il bianco è bianco. Scusate per il nostro fratello. Che il bianco non si vede. Che il bianco non si vede, ma qua si vede tantissimo. Hai capito che cosa? Dai, che cosa hai capito? Dai. Scusate perché non si voleva fare i compiti. Ciao. Tento che Giuseppe ci spiace tutte cose. Dovete vedere il nostro fratello? Ti vedrò il nostro fratello. Vieni Peppe. Fatti vedere. Peppe dai. Dove sei? Saluta Peppe. Vieni, avvicinati.